Picchiate, minacciate, sfruttate, trattate come schiave e obbligate a prostituirsi a turno anche 24 ore su 24. Così erano costrette a vivere alcune giovani donne arrivate in Italia dalla Bulgaria con il sogno di un lavoro e cadute nella trappola di una coppia di loro connazionali. A scoprire tutto sono stati i carabinieri del comando provinciale di Foggia che hanno tratto in arresto due cittadini bulgari, marito e moglie, finiti ai domiciliari con l'accusa di induzione e sfruttamento della prostituzione. Raccapriccianti i dettagli emersi nel corso dell'attività investigativa coordinata dalla procura di Foggia. Le ragazze venivano obbligate ad avere rapporti sessuali a pagamento alla periferia di San Severo, nei quartieri popolari di San Bernardino e Siberia, ma anche lungo la Statale 16. Il mercato del sesso non si fermava mai, giorno e notte, anche sotto la pioggia e con temperature rigide, le vittime erano costrette a rimanere in strada sino a quando non riuscivano a guadagnare i soldi ritenuti sufficienti per una giornata. Spesso dovevano supplicare i loro aguzzini pur di avere legna o pneumatici da bruciare per proteggersi dal freddo. Tornati a casa dovevano consegnare tutti i soldi alla coppia di Bulgari senza neanche avere diritto ad un pasto caldo. Un incubo che è finito solo grazie al coraggio di una delle ragazze che, stanca di quella vita disumana, ha deciso di presentare denuncia ai carabinieri facendo scattare le indagini. La donna ha anche raccontato ai militari che una di loro, rimasta più volte incinta, sarebbe stata obbligata ad abortire almeno sette volte, con gravissime conseguenze per la sua salute.